Purtroppo abbiamo visto la situazione che è abbastanza grave, in maniera esagerata, perché l'acquedotto serve alla popolazione di Galati, quindi sale a rafa e poi scende qua Galati. Pensare a un danno permanente dell'acquedotto per lungo tempo significerebbe avere difficoltà emergenziali gravi. Ma a parte questo c'è il problema imminente per quanto riguarda che la frana è abbastanza importante, per cui potrebbe anche da un momento all'altro precipitare ancora e quindi andare a fine sulla strada e anche sulle case che ci sono là vicino. Per cui assolutamente si possa pensare a una riportura subito e immediata dalla strada perché sarebbe una cosa assolutamente assurda. Noi dal nostro canto di vista stamattina già abbiamo inviato delle note importanti sia alla Prefettura, al Genio Civile, a tutti, per manifestare la gravissima emergenza che c'è e per avere un intervento immediato, intanto per la messa in sicurezza del territorio, quindi dalle case, delle strade e tutto il resto e poi per il ripristino del serbatoio che è una cosa essenziale per i cittadini di Galati. Perché voi il personale tecnico lo avete per analizzare quella situazione ma certamente non i fondi per intervenire, quanto meno per tamponare quello che sta succedendo, lì servono dei fondi di protezione civile. Assolutamente no, infatti, proprio questo noi abbiamo già mandato il nostro personale che ha fatto i rilievi. Stamattina verrà pure un geologo per vedere la situazione del territorio, già l'abbiamo già chiamato, forse già sarà arrivando, in momenti sarà qua, però chiaramente purtroppo come lo sappiamo noi siamo un comune in riequilibrio per cui già i soldi sono assolutamente limitati dal fatto che noi ogni anno paghiamo 100.000 euro per ripianare i debiti pregressi, per cui assolutamente si può pensare a un intervento con spese comunali, per cui noi stiamo facendo un'emergenza assoluta su tutti per avere appunto almeno intanto subito la quota essenziale per mettere in sicurezza l'abitato, è la cosa più importante. Oggi verificherete anche che non ci sia da evacuare qualche abitazione in quella zona? Sì, sì, infatti, infatti proprio per questo abbiamo chiamato pure il geologo per vedere la stabilità del terreno, quella situazione che è Michele Orifici, ce lo dico perché è un ragazzo molto bravo, in gamma qua della zona, che conosce bene il territorio, che ha fatto già un piano qua dall'amministrazione dell'Osevo e ha dato un incarico all'amministrazione passata per cui conosce il territorio in maniera approfondita, quindi verrà per vedere e valutare proprio dal punto di vista geologico la stabilità o meno della frana.